Ciao, questo è un video per il concorso di Guideconsole.it e Guideconsole.tv Il regolamento è sempre qua sotto e oggi diamo il quarto e ultimo indizio per scoprire il quarto e ultimo codice Il quarto indizio per scoprire il quarto codice è che Yotobi ha la chiave Se non hai capito proprio niente, ti consiglio di andare subito a investigare nel sito Guideconsole.it O anche nel suo forum, magari un pochettino le idee si chiariranno Quindi quando hai trovato tutti e quattro i codici, se li hai trovati, vai direttamente nel forum, nella sezione apposita e scrivili Il primo naturalmente, solamente il primo vincerà Ciao